Un punto di riferimento, da quanti anni? Siamo aperti la mia età, mia mamma mi ha concepito alla cucina che stava lì prima, all'entrata, perché il ristorante non era grande così. Siccome sopra è un seminario, è la proprietà dei preti, è la chiesa, ci hanno dato questo spazio dietro dopo. È stato un punto di riferimento per l'ospedalità, la cosa bella è che anche d'inverno è che questa è una cosa che va apprezzata, veramente, e vi fa merito. Ci sta la clientela quest'anno che hai avuto, clientela americana, clientela un po' tutto. Ah, mista, molto bella, mista, e io sono più contento, no, non è più contento, quando vengono i napoletani, gli israelitani, gli amalfitani, i positanesi, sono più felice. Mi dico, ah, con così buona facciamo. Eh no, se veniamo nudi nel territorio, si deve che l'apprezziamo, ecco, ecco, allora sono più felice. Ecco qua, è tutto uno staff in gamba, andiamo a conoscere pure il pizzaiolo e lo chef, andiamo. Eccolo qua. Ci salta. Buongiorno. Tu e Michele, il nostro chef. Buongiorno. Buongiorno, complimenti, complimenti, guardate, tutti al lavoro. Ecco, grandi chef, scuola di Tramonti, scuola della Costitana Alfitana. Buongiorno. E qua abbiamo anche un ottimo. Il fettume di Maiori. Apicella. Apicella, signora Apicella da Maiori. Complimenti, com'è sta andando? E qua abbiamo pure il pizzaiolo. Ciao, ciao. Signor Daniele. Cositana News. Cositana News. Facciamo i nostri complimenti, eh. Grazie, grazie, complimenti a voi. Complimenti a voi. Guardate, che bellezza. Grazie. Grazie. Grazie.